Tra le proposte culturali della FAPE ACHI questa settimana invito al teatro Liliana Cavani torna a dirigere Geppi Gleieses nel Piacere dell'Onestà di Pirandello, una commedia rappresentata per la prima volta a Torino nel 1917. In questa edizione insieme a Geppi Gleieses e Vanessa Gravina, una produzione di GTS Artisti Riuniti, Fondazione del Teatro della Toscana. Quale è lo spirito veramente pirandelliano di questa commedia, ovvero la differenza fra l'essere e l'apparire, fra la maschera e il volto. La società tiene a distanza gli onesti, ne ha paura, sono diversi e in quanto tali pericolosi e dunque si evidenziano le loro colpe e si guarda le persone rispettabili con le loro maschere di onorabilità. Ma la realtà è diversa. Si rivela infatti in questa commedia il vero volto della varia umanità dei protagonisti. Chi finora era apparso ad un giudizio sommario degli altri, un disonesto o comunque poco onesto, si rivela una persona veramente rispettabile. E chi, agli occhi della buona borghesia, godeva di considerazione, si manifesta invece infido e mediocre nelle azioni e nei sentimenti. E così il protagonista, Angelo Baldovino, che si adatta ad un matrimonio di facciata, un matrimonio finto e per compiacere un grosso personaggio, prende tutto poi molto sul serio e le cose andranno in modo assai diverso da come era stato progettato. al Teatro della Pergola fino a domenica 18. E sempre in questa settimana, da venerdì 16 a domenica 18, Claudia Cardinale e Ottavia Fusco in La strana coppia di Neil Simon, un progetto registrico di Pasquale Squitieri. È la versione femminile della nota pièce teatrale di Simon, è indimenticabile la versione cinematografica con Jack Lemmo e Walter Mattau. Interpretata adesso da una strana coppia come i grandi amori della vita di Squitieri, Claudia Cardinale appunto e Ottavia Fusco. Un omaggio a Pasquale Squitieri che aveva creduto molto in questo progetto per raccontare appunto la grande forza che l'amore ha di unire e non di separare. E infine al Teatro di Cestello a Firenze una commedia sugli anni di Firenze capitale di Loretta Bellesi-Luzzi con la regia di Marcello Ancillotti. Beppa la Fioraia, il Lachera, personaggi mitici in una Firenze prima capitale, poi lanciata di nuova dimensione nazionale che dialogano con i letterati delle giubbe rosse del caffè Michelangelo. Ormai lontana dal torpore della capitale di un gran ducato invecchiato, a Firenze si apre una nuova dimensione dove nasce una nuova coscienza. Loretta Bellesi in una narrazione ricca di situazioni, di scontri e di incontri, dialoga con la gente, parla dei nuovi venuti del nord e della nuova cultura cittadina. La Fappe Acre di Firenze presenta queste proposte culturali e fra l'altro si sta attivando per attuare convenzioni con teatri della città di Firenze e dell'India del Fiorentino a vantaggio dei propri iscritti e degli anziani e pensionati.